Rosani Incanto, terza edizione, grazie al maestro Scatolin. Prima ha detto delle bellissime parole, le rubo qualche frase. Creare un maestro. Creare un maestro è molto difficile, nel senso che la competenza e l'abilità sono cose che si costruiscono e soprattutto bisogna trovare persone che abbiano anche il coraggio di mettersi in discussione davanti agli altri per così guidare un gruppo. Non è molto facile, anche perché si pensa che in genere sia una sorta di potere a cui uno aspira e in realtà è un servizio molto umile che bisogna fare, intanto alla musica e poi di responsabilità. di fronte alle persone che si guidano. E il giusto rigore, ha detto anche. Sì, il giusto rigore, nel senso che... Che non è uno simolo. No, è che comunque dal punto di vista, come ogni attività culturale, esige un minimo di impegno, un minimo di, non dico serietà col volto o quello triste, però l'impegno vuol dire poi anche il rispetto per tutti i componenti, anche nelle relazioni fra coro e il direttore. Cioè, quel giusto rigore serve proprio a dare una dimensione anche di gradevolezza, poi nello stare assieme e anche di bellezza. Dalla platea, una cosa che colpisce molto, soprattutto in una serata come questa, dove ci si vedono tante persone che dirigono il coro, ognuna di loro ha una fisicità, ha una gestualità completamente diversa, ognuno dall'altra. Questa è una cosa, diciamo, molto particolare, perché, non so, vuol dire qualcosa su questo? Sì, 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 no, certamente. Allora, è chiaro che come ogni atleta, come ogni calciatore, come ogni nuotatore ha un suo stile inserito in un percorso. È chiaro che ci vuole comunque una coine di linguaggio, cioè qualche cosa che comunque tutti capiscano. Allora il nostro sforzo è quello di dire, all'interno del tuo modo di pensare la musica e quindi anche di gestualizzarlo, ci deve essere però un percorso di reciproca comunicazione. Cioè il gesto bello per se stesso non serve a niente se non comunica, il gesto brutto, se però rimane fin da se stesso, è altrettanto inutile. Quindi si tratta proprio di creare questa giusta via di mezzo fra l'espressione personale e un codice che comunque devono interpretare tutti. Complimenti perché tutti giovani, tra l'altro, questi, come dire, neofiti o comunque studenti, veramente molto bello. Credo che un'altra cosa che ha arricchito tantissimo il nostro festival sia la proposta dei compositori. Cioè vedere finalmente delle serate, poter ascoltare delle serate o vedere dei programmi di sala con dei compositori contemporanei, dove leggi solo una data e non due, per intendersi, è una cosa che fa tanto piacere. Il livello è molto alto. Cerchiamo semplicemente di non pensare solo alla bellissima e stupenda letteratura del passato. Cerchiamo anche di vedere se nel panorama della musica attuale ci possa essere qualcosa che comunichi un sentimento, un'emozione, oppure che comunichi un testo importante. Ecco, questo secondo me, per molti compositori contemporanei, moderni, è un punto veramente importante. Ecco, quindi cerchiamo di privilegiare proprio quel tipo di repertorio. Ecco, è chiaro che anche lì si trova un po' di tutto. Spesso si trova anche il cercare l'effetto musicale per colpire come se fosse un fuoco d'artificio. Ci sta anche quello, ovviamente. Però cerchiamo anche dove ci sia una densità poetica e un coefficiente forte da questo punto di vista. Michele, vuoi fare qualche domanda? Perché se no io comincio a parlare di scrittura, di musica, non si diventa. Non voglio, come dire... No, no, non si deve. No, insomma, la curiosità che viene immediatamente dopo è una partitura probabilmente di qualche secolo fa è scritta in un certo modo, lei la recepisce in un certo modo. Una partitura contemporanea è molto interessante, penso come sfida per questi giovani direttori. Sì, però anche lo studio semiologico, cioè quello del segno, più che semiologico è semiografico, insomma, ha ormai un suo percorso. Io penso che un direttore appunto debba imparare dei codici che non sono così uniformi come poteva essere nell'Ottocento. Ormai oggi ogni compositori quasi si crea un suo tipo di scrittura. Questo potrebbe essere uno svantaggio. In realtà, poi andando a vedere, è un grosso approfondimento di quello delle possibilità che abbiamo attraverso il segno di esprimere dei suoni. Credo che mai come il Novecento e anche questo secolo, in questo senso, abbia espresso dei risultati molto importanti. La ringrazio tantissimo.